che ha dato tanti spunti non solo a me ma a tanti sportivi ieri e oggi per cui questo segno lo voglio testimoniare a quanti stanno facendo del bene e quanto messaggio anche spirituale e evangelico si riesce a passare anche attraverso l'ambiente sportivo ecco, grazie a Giorgio anche perché mi ha chiesto questa la piccola collaborazione e la testimonianza a tutti quelli che hanno collaborato ecco io volevo ricordare anche la presenza di Monsignor Giuseppe Zadra che all'epoca della visita di fine aprile